Allora, solo poche parole per avviare questo ciclo di seminari che abbiamo presentato qualche giorno fa. Intanto sono soddisfatto perché, contrariamente a qualche mio timore, devo riconoscerlo, vedo una buona partecipazione, questo mi rincuora molto perché ammetto la preoccupazione ogni volta che si parla di strutture culturali, di musei nel caso specifico, il rischio del disinteresse è forte e quindi mi fa molto piacere. Io, come dire, mi complimento ancora con gli organizzatori di questo ciclo di seminari perché ritengo che sia importante non solo il tema in sé ma sia importante anche la modalità col quale si è deciso di operare e, come sappiamo bene, il metodo non è mai disgiunto della sostanza e così non dovrebbe mai essere. Allora, soltanto veramente due parole. Nel momento in cui è nato un nuovo governo, c'è un nuovo ministro per i beni culturali, Massimo Brai, che spero faccia bene. Io in questo momento sono anche nel Consiglio Superiore per i beni culturali assisto quotidianamente al disfacimento del Ministero per i beni e le attività culturali che, a mio parere, andrebbe completamente ripensato, completamente ripensato perché finora l'insistenza che si è fatta sui beni culturali e nel disinteresse generale della politica che non ha mai considerato come prioritario, come strategico per il progetto Paese l'investimento sul patrimonio culturale e paesaggistico. E quindi noi abbiamo una visione ancora legata agli aspetti economico-organizzativi che sono importantissimi mentre, a mio parere, bisognerebbe toccare il nodo centrale del senso, del significato pieno dei beni culturali e paesaggistici oggi. Soltanto capendo qual è il significato che noi diamo al patrimonio culturale possiamo ripensare l'organizzazione e appunto la struttura organizzativa. C'è ancora un eccesso di attenzione al problema centralismo-periferia che secondo me è un falso problema, ma certo in questo momento è un problema perché viviamo una situazione di totale confusione tra centro e periferia. Basti pensare che al Ministero ci sono le direzioni generali che si occupano di aspetti settoriali e in periferia abbiamo le direzioni regionali che affronterebbero, dovrebbero affrontare il patrimonio culturale nella sua organicità ma poi ci sono le soprintendenze settoriali, quindi una situazione di grande confusione, di grande conflitto anche spesso di funzioni appunto e di poteri. Quindi andrebbe completamente ripensato e non c'è dubbio che all'interno del sistema dei beni culturali i musei intesi in senso globale dovrebbero svolgere una funzione centrale, una funzione nuovissima ripensando l'idea stessa del museo da luogo, dico una banalità, da luogo di mera conservazione, cosa peraltro importante, a luogo di formazione, di educazione, di promozione culturale, di iniziativa, di vivacità culturale all'interno di una città, di una comunità. Mi fa piacere che si cominci col sistema museale dell'Umbria perché è uno dei primi sistemi nati in Italia. Oggi ci fa un gran parlare anche qui da noi, normalmente a sproposito della parola sistema, si usa sempre la parola sistema, salvo poi non realizzarlo e operare ciascuno in maniera isolata e spesso conflittuale con le altre componenti di quello che dovrebbe essere il sistema. In Umbria c'è una realtà importante e una tradizione importante, io tra l'altro in Umbria ho una mia carissima amica che è Antonella Pinna, con la quale abbiamo fatto un percorso archeologico insieme quando eravamo tutti e due un po' più giovani, scavando a sette finestre poi a Roma, e poi appunto Antonella ha preso questa strada in Regione dove si occupa appunto di musei, di eco-musei. Stiamo lavorando a livello di Ministero anche appunto su queste questioni, ma con grandi difficoltà e grandi ritardi. Dunque, io ribadisco una cosa fondamentale alla quale credo moltissimo, il tema è, prima ancora che è economico, si insiste molto sul fatto che ci sono pochi soldi, ed è vero che ci sono pochi soldi. Pensate che nel Consiglio Superiore dei Beni Culturali quest'anno ragionavamo sul bilancio per il patrimonio culturale e si parlava di 90 milioni di euro per tutta l'Italia, quindi voglio dire somme assolutamente risibili, assolutamente risibili. Quindi il problema è economico, non c'è dubbio. Ma io sono convinto che se oggi per miracolo il governo decidesse di investire miliardi sui beni culturali, il problema resterebbe. Il problema non è solo di natura economica, il problema è, a mio parere, di natura culturale, politica e metodologica. Ecco perché sono importanti anche momenti come questo per ragionare di queste cose, perché avere tanti soldi e non sapere come spenderli bene non è la soluzione. Ed è proprio nei momenti di difficoltà e di crisi come questa che bisognerebbe, ma non lo si fa, ragionare, studiare, elaborare proposte, anche proposte a costo zero, per poter organizzare un progetto complessivo che poi si possa realizzare, allora sì, magari anche con maggiori risorse. Quindi io faccio gli auguri di buon lavoro oggi, al seminario di oggi e ai prossimi appuntamenti, cercherò di tanto in tanto di affacciarmi per imparare qualche cosa e quindi, niente, buon lavoro. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti, che insieme ad Archeologica SRL, l'Università di Foggia, utopicamente, ha reso possibile la realizzazione di quello che è un Laboratorio dal Basso. Il Laboratorio dal Basso è la nuova iniziativa di Arti e Bollenti Spiriti Regione Puglia per far crescere una nuova classe di imprenditori, di giovani imprenditori e di permettere loro di formarsi scegliendo il tipo di formazione imprenditoriale e scegliendo come realizzarla. Questa è la storia di Officina Musei ed è la storia di una coprogettazione, una coprogettazione nata a 4, 5, 6 mani con Anna, con Severo, attorno alla tematica del museo, museo inteso come nuova realtà, anche imprenditoriale. Vi spreco brevemente come funziona il bando Laboratori dal Basso, che vi ricordo rimarrà aperto a sportello fino al 30 giugno. Possono partecipare associazioni giovanili composte in maggioranza da under 35 o micro imprese, attive nei settori più disparati, che organizzano il loro percorso di formazione scegliendo i docenti e scegliendo la location, organizzando quasi tutto. Quello che diciamo noi, per usare una metafora per spiegare Laboratori dal Basso, diciamo che si tratta di un gruppo di acquisto di conoscenza, come i gas, i cittadini si mettono insieme per comprare delle verdure a chilometro zero, magari biologiche, qui ci sono delle realtà archeologiche, utopicamente, che si mettono insieme, creano un cluster, un gruppo di interesse che organizza quello che è Officina Musei, scegliendo i docenti che dovranno venire poi a parlare. Quindi sono stati Anna e Severo che hanno scelto le realtà più interessanti dal punto di vista museale presente in Italia, dal MART, di Rovereto, dal sistema museale Umbro, ho già citato. Quindi veramente i giovani sono protagonisti di questo laboratorio. Quindi dobbiamo ringraziare Anna e la sua testardagia, e la sua caparbietà che è riuscita a realizzare questo percorso unico, praticamente unico in Puglia. Non rubo altro tempo, voglio ricordare che tutti i laboratori dal basso oltre ad essere gratuiti e aperti a tutti, possono essere anche fruiti online e in seguito. Adesso siamo in streaming su www.laboratoridalbasso.it quindi questa è un'altra cosa che Arti realizza per rendere veramente aperto e accessibile a tutti questo percorso di formazione. ma non solo, dopo la fine del laboratorio i contenuti saranno disponibili sempre sul sito di laboratori dal basso e quindi voi potrete seguire di qui a qualche mese tutti quanti i laboratori che sono stati realizzati, dal marketing alla comunicazione, perché sono veramente tanti i temi, quindi invito a visitare il nostro sito. Io sono a disposizione qui fino a l'una più o meno per eventuali domande, dubbi su come funzioni l'intervento. Buon lavoro e grazie di essere così numerosi. Allora, a questo punto grazie a tutti per essere qui penso che possiamo iniziare quindi... Ah sì, ecco, bene, è arrivata la dottoressa Fazia e chiedo un attimo un saluto perché anche il Museo Civico insieme all'ICOM Puglia di cui anche la dottoressa Fazia fa parte sono parte nell'iniziativa, ci hanno aiutato e sostenuto anche nell'individuazione delle docenze e dei profili di riferimento. No, io faccio veramente un saluto perché oltretutto sono arrivati in ritardo quindi non ho diritto alla parola, però ovviamente il Museo Civico è partner proprio perché ha riconosciuto la bontà di questa iniziativa di questi giovani, sempre giovani anche se è vero, fa un po' un dato perché in effetti lo capiremo, lo capiremo tutti dopo aver sentito queste persone che ovviamente sono un po' più avanti rispetto alla nostra realtà e sono certe che non soltanto i giovani che vogliono inserirsi in questo tipo di lavoro che è bellissimo ma arduo ma anche chi lavora già nelle istituzioni può prendere delle belle idee e quindi usciremo tutti più ricchi. Grazie Io prendo la parola giusto per ringraziare tutti i partner ringrazio il Rettore grazie ancora ringrazio l'Arti e Bollenti Spiriti per questa occasione che ci ha dato di stare tutti qui insieme e poter discutere di musei secondo me già questo è un grande passo perché lo dico anche come componente dell'ICOM Puglia insieme ad Anna in Trona tre safazia abbiamo a volte anche delle difficoltà a mettere intorno a un tavolo delle persone che si occupano di musei oggi invece vedo che c'è una grossa affluenza di questo mi fa piacere le tematiche che affronteremo durante questo ciclo di seminari riguardano ovviamente sia l'evoluzione e il cambiamento dell'istituzione museale quindi non più solo come tempio della conservazione ma anche come officina musei proprio l'officina il termine l'abbiamo utilizzato volutamente proprio per indicare che sarà un percorso di scambio continuo di reciproco di scambio e condivisione di buone esperienze ovviamente uno dei temi centrali è sia ovviamente i servizi per il pubblico per una questione che utopicamente insieme ad archeologica si sono sempre più stretti in una partnership operativa sul territorio foggiano e di questo ne sono molto ma molto contento perché significa che a Foggia si possono fare le cose insieme e il secondo aspetto sarà quello della gestione perché secondo noi insomma considerando anche la contrazione di finanziamenti pubblici alla cultura in generale ai musei in particolare secondo me il tema della gestione indiretta o associata di servizi in rete sarà fondamentale oggi primo incontro ho il piacere di presentarvi la dottressa Badalà che rappresenta Sistema Museo una della realtà italiana è più importante perché si occupa di gestione e valorizzazione dei sistemi di servizi museali ma anche legati ai beni culturali a livello nazionale è una cooperativa sono ormai più di vent'anni se non mi sbaglio Cristina che opera in diverse regioni e diverse realtà territoriali per cui sicuramente la sua esperienza è un'esperienza molto importante perché effettivamente questa cooperativa che ha sede a Perugia rappresenta una di quelle buone prassi probabilmente da imitare quindi invito Cristina buongiorno a tutti allora io innanzitutto mi associo alle parole e ai saluti che ho sentito finora sia sulla partecipazione molto attiva che vedo di questi tempi in questi tempi di crisi fa veramente piacere perché bisogna tenere duro il confronto deve essere sempre attivo vivo dinamico non perdere come dire nella speranza nella voglia di progettare confrontarsi programmare continuare comunque a fare nonostante come diceva anche il rettore poco fa parole veramente sagge non ci sono finanziamenti quindi l'istinto è quello di mollare tutto tirare i remi in barca e dire ok aspettiamo che la tempesta passi se ci fermiamo adesso siamo perduti questo insomma per dire che ovviamente lavoriamo in un campo in un ambito estremamente in difficoltà in questo periodo quindi trovare queste iniziative formative questi momenti di confronto incentrati sui beni culturali da sostegno forza stimolo a tutti quanti per me per noi insomma parlo per la mia azienda che è stata invitata a confrontarsi su questo tema con voi e ovviamente anche per voi allora io facciamo così intanto apriamo non so se si vede se c'è la finestra forse che vi ostacola un po' le immagini ci aiutano a a sostenere quello che vi racconto allora io appunto come diceva prima dottor Cardone sono Cristina vada là sono un socio della società cooperativa Sistema Museo lavoro in questa cooperativa dal 2001 quindi insomma un po' più di 10 anni e mi sono occupata di tante cose prima di tutto sono un'operatrice museale lo sono da quando sono entrata diciamo con l'esperienza ho aggiornato le mie competenze dopo un percorso di studi legato ho fatto lettere classiche all'università di Perugia sono approdata un po' casualmente a questo lavoro lo racconto anche per raccontarvi la mia esperienza individuale perché sostanzialmente oggi io vi racconterò chi è Sistema Museo che cosa fa come è nata in che ambiti operiamo come operiamo per le gestioni poi nella seconda parte vedremo anche le attività di servizi al pubblico soprattutto i servizi educativi però raccontarvi anche l'esperienza la mia esperienza non posso raccontarvi tutte le esperienze di tutti i miei colleghi secondo me è anche utile sono approdata dicevo molto casualmente a questo lavoro praticamente per motivi di studio mi sono avvicinata a questo ambito e poi attraverso il lavoro stesso all'interno dell'azienda ho maturato delle competenze quindi ho fatto dei corsi di aggiornamento questo per dirvi che comunque come dire è un ambito molto particolare dove le iniziative formative come queste possono dare un input ma poi con l'esperienza e con l'approfondimento quotidiano si matura un profilo e dei requisiti specifici come vi dicevo allora io ho un po' impostato questa giornata una giornata intera quindi una giornata molto lunga con una parte generale vorrei prima raccontarvi l'esperienza nella regione da cui vengo l'Umbria come diceva il rettore è una delle prime che ha approntato un sistema museale è la prima regione in realtà in Italia che attraverso una normativa specifica ha creato appunto un sistema una rete sistema museo chi è cosa fa e come operiamo le gestioni museali che comunque sono il cuore delle nostre attività e poi i settori di sviluppo dalle librerie museali all'organizzazione delle mostre temporanee nel pomeriggio la seconda parte è tutta incentrata è dedicata ai servizi educativi al pubblico quindi soprattutto per il pubblico dei ragazzi una parte che mi sembra molto interessante anche per la vostra realtà vi chiedo di interrompermi in qualsiasi momento rendiamo dinamica anche questa giornata capisco che avere davanti una persona insomma per una giornata intera può essere anche faticoso quindi veramente in maniera molto tranquilla e serena insomma interrompiamoci a vicenda facciamo domande approfondimenti senza nessun problema anzi mi fa piacere insomma o laddove qualcosa non sia chiaro o io magari sto dando per scontato oppure invece è fin troppo chiaro possiamo andare avanti quindi insomma in maniera molto allora il sistema museale dell'Umbria molto importante se mi siedo vedete ok posso usare questo microfono prima mi era stato detto di utilizzare l'altro ok sto bene così va bene perché è molto importante l'esperienza della regione Umbria allora considerate che come vi dicevo è stata la prima regione in Italia a creare una rete di musei locali che cosa vuol dire negli anni 70 c'è stato un trasferimento delle competenze dallo Stato alla regione e in quella già prima configurazione si aveva l'obiettivo di creare un sistema museale quindi riorganizzare le sedi museali i musei locali in alcuni casi nella maggior parte dei casi in stato di abbandono praticamente magazzini di opere quindi neanche aperti al pubblico e organizzare tutti i servizi per la riapertura la prima legge regionale in Italia che appunto ha determinato questo passaggio fu la legge 35 del 1990 in Umbria per questo dico che più che tra le prime è stata veramente tra le regioni una pioniera in questo campo e fu veramente da un punto di vista nazionale anche proprio a livello di normativa una rivoluzione per l'Italia proprio perché ci fu l'intenzione di fare un lavoro dalla A alla Z di catalogazione restauro delle opere consolidamento delle strutture quindi ristrutturazione delle sedi messa a norma di tutta l'impiantistica e i sistemi di sicurezza di illuminazione eccetera riallestimento o allestimento dei percorsi espositivi nonché la gestione dei servizi ai livelli minimi indispensabili quindi servizi di accoglienza informazione in quella occasione e questo è il punto che mi preme ma non perché questi siano di minore importanza voi immaginate una rete museale regionale che oggi consta di più di cento musei completamente riorganizzata completamente dalle strutture passando all'allestimento restauro delle opere fino alla formazione del personale nell'ambito di quella legge e qui mi preme sottolinearlo furono organizzati dei corsi di formazione per operatore museale anzi avevano una dicitura a dir poco orrenda corsi di formazione per operatore intramuseale con una definizione ripeto abbastanza particolare questi corsi furono organizzati e tenuti dalla regione Umbria in collaborazione con l'università degli studi di Perugia e appunto formarono per la prima volta degli operatori museali per un lungo periodo in tutti i bandi che la regione pubblicò per la gestione dei musei locali la qualifica di quei corsi era obbligatoria tra i requisiti degli operatori del settore anche questa era un'innovazione incredibile cioè innanzitutto organizzare dei corsi qualificare il personale per la prima volta considerate che furono fatti per alcuni anni successivamente esternalizzare il servizio anche questo fu un primo passo che ancora in Italia si era alle prime sperimentazioni di esternalizzazione dei servizi in questo ambito e in più rendere obbligatorio il requisito quindi riconoscere la professionalità e rendere obbligatorio il requisito dei corsi e quindi la qualifica di operatore museale parliamo del 1990 voi considerate soltanto così per darvi un quadro della normativa italiana l'atto di indirizzo sui criteri tecnico tecnico scientifici cosiddetti standard museali sono del 2000 parliamo di dieci anni dopo il codice dei beni culturali che insomma comunque il codice che abbiamo che se ne dica è uno dei migliori e comunque uno dei più potremmo soffermarci a parlarne però insomma è molto articolato e ha dei punti molto interessanti comunque del 2004 cioè insomma parliamo quindi di passi e obiettivi raggiunti che anche da un punto di vista di normativa avverranno molto più tardi quindi nel 1990 in Umbria si era creata veramente una situazione estremamente buona estremamente fertile un terreno molto fertile per sistemare se non altro dal punto di vista della normativa questo tipo di ambito Sistema Museo nasce da questi corsi di formazione io mi occupo di formazione all'interno di Sistema Museo da alcuni anni ogni volta che vado sono sempre piacevolmente come dire contenta proprio perché la nostra nascita è legata ad un corso di formazione io non partecipai ovviamente in quel periodo insomma avevo altro da fare studiavo i soci fondatori di Sistema Museo parteciparono individualmente a quei corsi di formazione nel 90 poi decisero di mettersi insieme di cominciare un po' come alcuni di voi insomma di unire le proprie forze le competenze crearono una piccola cooperativa che appunto è stata fondata nel 90 e da lì successivamente cominciarono con la prima gestione del primo museo di cui vi parlo vi parlerò successivamente e appunto questa strada insomma poi è arrivata ai giorni nostri questo per dirvi che ripeto ancora oggi e da sempre la formazione è fondamentale per molti motivi anche proprio per dare gli input gli stimoli per costruire un percorso insomma allora rispetto ecco ancora sempre sul sistema museale dell'Umbria dalla legge del 90 comunque per circa dieci anni la regione si è occupata di gestione cioè ha fatto in modo di supportare quale ente pubblico le iniziative quindi i bandi e le società che appunto si dovevano occupare di gestione quindi standard minimi servizi di base successivamente con un'altra legge nel 2003 dalla gestione la regione ha cominciato di supportare le azioni di valorizzazione cioè quindi laddove appunto da un punto di vista gestionale la situazione era stata messa appunto veniva monitorata costantemente con il controllo e le verifiche costanti sul mantenimento degli standard sulla qualità dei servizi appunto i bandi di gara richiedevano requisito obbligatorio della qualifica degli operatori oltre ad altri requisiti ovviamente dopodiché si è passati al livello successivo che è stato quello della valorizzazione ancora oggi la legge 24 del 2003 in Umbria è una legge che eroga contributi a quei soggetti pubblici o privati che propongono azioni di valorizzazione e promozione dei musei dei siti culturali e del proprio territorio premiando i progetti le proposte in rete ovvero associazioni di più comuni o di più soggetti privati che insieme appunto in rete propongono delle azioni congiunte questa è una legge e un supporto notevole potete immaginare che fortunatamente ancora ogni anno viene erogato ovviamente con tutti i come dire i limiti e le richieste dei requisiti del caso noi ogni anno fortunatamente riusciamo ad avere approvati almeno un paio dei nostri progetti attraverso questa legge e di cui vi parlerò vi farò proprio degli esempi pratici per raccontarvi insomma che cosa abbiamo proposto abbiamo una regione abbiamo da un punto di vista come dire istituzionale però un supporto notevole se questo supporto da parte degli enti non c'è o viene meno possiamo avere le idee la creatività le proposte più interessanti più stimolanti più innovative del mondo ma laddove non c'è un supporto economico perché comunque il problema rimane economico questo bisogna dirlo istituzionale cioè il poter accedere anche come soggetto privato insieme a soggetti pubblici a dei finanziamenti non si può procedere le due cose devono andare di pari passo è vero anche come diceva il rettore che abbiamo un certo tipo di problematica in Italia per cui se oggi venissero stanziati una montagna di fondi per i beni culturali forse il problema rimarrebbe forse sì è vero anche che insomma in Italia su questo ambito secondo me molte aziende si sono sono maturate sono arrivate a dei livelli e a degli obiettivi molto alti per cui in campo ci sono veramente delle professionalità molto abili come in tutti gli ambiti ci sono delle professionalità invece che andrebbero come dire ricontrollate nel senso che come tutti gli ambiti laddove c'è un terreno in cui la competizione il mercato e la stessa gara tra virgolette tra una società e l'altra insomma potrebbe invece come dire generare delle sorprese però ripeto io conosco un po' la situazione della normativa in Puglia insomma è qualche anno che scendo come diciamo noi per motivi di lavoro e capisco che laddove non c'è il supporto di un ente pubblico è veramente faticoso però qualcosa si sta muovendo in una direzione positiva secondo me ragionavo proprio ieri scendendo venendo in treno che era molto che non venivo in Puglia fino a tre anni fa nel giro di tre anni almeno un paio di volte l'anno vengo per motivi di lavoro e questo è interessante insomma denota come la regione Puglia adesso parlo proprio in generale stia facendo dei passi da gigante io mi occupo come vi dicevo di formazione e le due regioni in Italia più attive nell'ambito della formazione per i beni culturali sono la Puglia e la Sardegna nel senso attive che riescono ad intercettare finanziamenti del Fondo Sociale Europeo che riescono ad avere delle regioni che supportano queste iniziative l'iniziativa Laboratori Dal Basso dicevo stamattina con Anna e Severo è eccezionale ha una portata straordinaria perché non c'è peggior formazione che quando viene calata dall'alto è la formazione più sterile il proporre a qualcuno ti formo per fare questa cosa quando non ho recepito le sue esigenze le sue richieste è controproducente questo percorso dei Laboratori Dal Basso ma ve lo dico con molta sincerità vi faccio veramente complimenti ha una portata incredibile perché parte appunto Dal Basso come dice il nome raccoglie le istanze le esigenze di chi in quel campo lavora e ha l'umiltà di dire io su questo terreno vorrei saperne di più perché oggi tra l'altro abbiamo molte realtà dove invece si è convinti di sapere troppo invece non si finisce mai quindi ha l'umiltà di dire ok su questo voglio avere più maggior confronto voglio saperne di più voglio avere conoscere le esperienze delle altre regioni degli altri soggetti e quindi è veramente eccezionale su questo insomma vi faccio i complimenti chiudo la parentesi prego tu hai parlato della legge regionale sull'unità e tu hai parlato della legge regionale in Umbria non hai citato la legge quindi non te la posso ripetere volevo sapere se la legge attivasse cioè quali fossero i fondi FESR che io li vedo in lontananza quali assi fossero interessati o interessassero i beni culturali quale fossero l'ammontare complessivo che la regione Umbria destina ai beni culturali e se sono divisi in varie azioni perché noi sai noi abbiamo l'asse 4 diviso in varie azioni linee di intervento questa volta adesso il nuovo il nuovo POR vediamo come si lancerà però ci interesserebbe capire per fare un parallelo quanto in effetti lì tu dici linea B2 POR FESR 2007-2013 ecco per spiegarci bene 2007-2013 cito questo ovviamente gli assi e gli ambiti sono diversi sì e la legge mi interessava capire la legge di cui tu hai citato però adesso guarda l'hai detto in un passaggio ecco occorreva capire bene che cosa favorisse che cosa sviluppasse che cosa consentisse alle infrastrutture pubbliche e poi eventualmente ai privati per fare una differenza per esempio noi abbiamo partecipato adesso in questo periodo ai bando sui musei e capire che cosa c'è in Umbria e come proprio il parallelo tra voi e noi va bene per poter acquisire grazie allora rispetto ai fondi europei anche noi ovviamente abbiamo più ambiti più assi su cui interveniamo qui citavo per l'ultimo quinquennio 2007-2013 la linea B2 ma mi legavo soprattutto se era questo che mi chiedevi alla legge 24 cioè questo verde che capisco che si vede molto poco ma dopo scomparirà la legge 24 2003 è una legge sulla valorizzazione che premia le azioni di valorizzazione è destinata agli enti pubblici che promuovano il territorio e i beni culturali con azioni che vanno dall'organizzazione delle card progetti attività di promozione di circuiti culturali poi vi farò degli esempi possono partecipare gli enti pubblici come come proposte associati anche ad enti privati però il firmatario del progetto deve essere un ente pubblico c'è una scala di punteggi poi magari ovviamente sul sito della regione Umbria la legge è scaricabile adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio perché magari diventa insomma troppo didascalico la legge è scaricabile potete vedere come è strutturata c'è poi una serie una griglia di punteggi in cui è sempre evidenziato come la rete cioè l'unione di più comuni insomma enti pubblici e soggetti privati abbiano un punteggio maggiore questo perché c'è sempre stata nella filosofia della regione l'idea che la rete vada premiata l'Umbria è una regione piccola non è bagnata dal mare come sapete quindi siamo completamente chiusi nel nostro centro si gira da nord a sud da est a ovest in due ore cioè veramente da nord a sud insomma in due ore l'ho percorsa tutta da città di Castello a Narni insomma è una regione quindi piccola non si può non parlare di rete e di unione e di azioni congiunte in una regione come l'Umbria ripeto molto racchiusa anche geograficamente molto piccola e allungata esatto ma si gira facilmente cioè anche da un punto di vista turistico in Umbria una vacanza di una settimana insomma non dico che la visiti tutta perché adesso andrei a a screditare quelle che sono le mie zone però insomma buona quasi tutte le città insomma più interessanti si possono vedere per questo dicevo che nella filosofia della regione la rete è sempre assolutamente sostenuta allora questa ecco la situazione che vi dicevo della regione quindi attualmente sono stati sono rientrano nel sistema museale della regione 107 tra musei raccolte o altre strutture di cui la maggior parte sono appartenenti a comuni o altri enti pubblici 74 musei 24 a soggetti privati e solo 9 ad istituzioni ecclesiastiche considerate che questa rete museale di questa rete museale il sistema museo attualmente gestisce 85 86 musei quindi praticamente la maggior parte e questi tutte queste realtà tutte queste sedi museali raccolgono ogni anno un bacino di utenza di circa un milione di visitatori quindi questi sono i dati che abbiamo un milione di visitatori tra ovviamente tutte le strutture museali pubbliche private è un dato generale insomma sui flussi turistici della regione ecco questo è il terreno normativo e la realtà in cui il sistema museo nasce ora cerco di raccontarvi come è cresciuta e come abbiamo operato come abbiamo ragionato con che metodo anche che metodo ci siamo dati come vi dicevo nel 1990 a seguito del corso regionale sulla formazione per la formazione degli operatori inizialmente abbiamo lavorato nei musei dell'Umbria il primo museo fu il museo civico di Montefalco che dopo vi faccio vedere che ancora gestiamo quindi diciamo che da un punto di vista affettivo è una delle realtà a cui teniamo di più operiamo in generale quindi per la promozione e la valorizzazione non solo dei musei ma in generale di tutto il territorio in cui operiamo negli anni abbiamo creato anche dei settori trasversali di sviluppo e soprattutto ci siamo anche diciamo lanciati anche in altre gestioni fuori regione i servizi che facciamo qui c'è un elenco che può essere anche abbastanza sterile però per darvi la misura e il senso di come di come lavoriamo forniamo gestione di servizi museali di base poi parleremo brevemente di quelli che sono i servizi minimi servizi aggiuntivi prendendo spunto proprio dagli standard museali quindi servizi di biglietteria per mostre e musei servizi di prenotazione segreteria per mostre temporanee con uno specifico settore che è il call center che si occupa proprio dell'organizzazione delle prenotazioni e delle biglietterie elettroniche per le mostre lavoriamo nella progettazione nella realizzazione dei servizi educativi quindi la didattica per la conoscenza del patrimonio progetti di comunicazione per i beni culturali per i musei che gestiamo ma anche per gli altri enti abbiamo al nostro interno da qualche anno un settore che si occupa della produzione e della realizzazione di audio guide dall'acquisto del macchinario alla registrazione fino alla vendita al pubblico facciamo allestimenti gestioni di librerie museali sia per i musei che per le mostre forniamo i servizi per le biblioteche numero marginale rispetto a tutte le nostre gestioni però facciamo anche servizi per archivi e biblioteche per i teatri quindi anche tutta quella che è la parte di didattica relativa anche all'educazione ambientale abbiamo dei siti naturalistici prettamente naturalistici alcuni di questi vi parlerò insomma in cui appunto la didattica diventa educazione ambientale una produzione culturale festival conferenze progetti culturali anche estranei o esterni alla gestione museale l'organizzazione e gestione delle reti culturali appunto anche più complesse che mettano insieme più comuni più esigenze più realtà l'organizzazione dei pacchetti e itinerari turistici per un periodo abbiamo addirittura al nostro interno avuto un'agenzia un tour operator che promuovesse noi ovviamente facevamo la parte di produzione ma l'agenzia poi faceva il terminale ultimo la parte proprio di vendita quindi abbiamo anche sperimentato questo binomio e in ultimo ma in prima battuta come vi dicevo poco fa organizziamo anche e partecipiamo a progetti di formazione per i beni culturali ripeto in ultimo ma in realtà come prima come prima cosa questi sono i nostri servizi questa è la diffusione geografica dal primo museo di Montefalco che vi dicevo nel 90 ora noi siamo presenti in 13 regioni alcune anche solo con una gestione diciamo su una città ma non di minore importanza in Liguria per esempio siamo solo a Genova ma siamo a Genova nei musei di strada nuova la gestione di via del campo i nati con grandi società quindi se numericamente diciamo c'è soltanto un polo dove lavoriamo però insomma è di grande importanza l'Umbria rimane il nostro la nostra sede di lavoro principale con come vi dicevo circa 80 85 gestioni di musei e circuiti quindi i circuiti ovviamente hanno più più sedi e in questo momento tra una gestione che si chiude una gestione un bando di gara nuovo vinto in questo momento abbiamo 160 gestioni in tutta Italia tra musei aree archeologiche biblioteche teatri archivi facendo una continua scommessa perché come vi dicevo poco fa è veramente in questo momento è veramente drammatico lavorare in questo ambito proprio per non raccontarvi il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie vi dico solo che noi lavoriamo per il 90% con le pubbliche amministrazioni e noi siamo tra le aziende e le società che non vengono liquidate ok e abbiamo a credito dalle pubbliche amministrazioni insomma quasi metà del nostro bilancio quindi rischiamo di essere nello stallo totale anzi siamo nello stallo totale a livello proprio di liquidità un problema di pagamenti questo ripeto per dirvi che comunque a me fa piacere raccontarvi come siamo cresciuti come operiamo ma lavoriamo in una difficoltà enorme tanto che ovviamente continuamente si apre un dibattito interno cosa fare cosa non fare dove trovare le risorse come trovarle continuare ad investire o fermarsi concentrarsi solo sulle gestioni più remunerative e non investire sulle altre perché possono essere insomma il dibattito interno della nostra cooperativa in questo periodo è molto vivace per fortuna perché ovviamente come dire l'insieme insomma anche di tutte le idee del pensiero dei soci insomma ci aiuta a trovare delle soluzioni però è molto difficoltoso vi assicuro in questo periodo in questo ecco appunto vi dicevo abbiamo circa 160 gestioni in questo momento e abbiamo in questo momento questo è il dato del 2011 però insomma più o meno ci siamo 190 soci considerate che il nostro come ovviamente immagino saprete è un lavoro stagionale quindi ci sono dei periodi dell'anno legati a o a iniziative particolari tipo le mostre temporanee sono periodiche hanno un inizio hanno una fine quindi hanno delle esigenze anche di personale è concentrato solo in quel periodo o in alcuni momenti dell'anno dove i musei richiedono personale aggiuntivo per l'orario estivo per attività per iniziative quindi la fisarmonica come dire si apre c'è un aumento del personale quindi il picco massimo tra soci dipendenti o collaboratori è di 200 220 unità in questo momento ripeto i soci stabili che lavorano tutto l'anno sono appunto all'incirca 180 190 anche sempre per non raccontarvi che è tutto rosa e fiori negli ultimi due anni c'è stata una diminuzione c'è stata una diminuzione drastica del monte ore di apertura dei musei quindi se un museo era aperto dal martedì alla domenica tutto l'anno da gennaio a dicembre adesso quel museo è aperto il sabato la domenica d'inverno da marzo a settembre dal giovedì alla domenica se prima mi richiedevano tre operatori me ne richiedono due d'estate e uno d'inverno e così a catena di questi esempi ve ne potrei fare molti oppure i servizi stessi vengono ridotti fate soltanto i servizi di accoglienza e informazione poi la sorveglianza la facciamo col personale interno della sovrintendenza o con personale dei condipendenti comunali oppure mi fate solo i servizi aggiuntivi quindi le attività didattiche di educazione al patrimonio e non nei servizi di accoglienza e informazione ecco tutta questa contrazione di ore di periodi o di servizi ovviamente ci ha colpito molto nella riduzione o dei contratti del personale oppure del numero proprio delle unità questo ripeto insomma comunque è una situazione molto drammatica in cui ci troviamo a lavorare bisogna tenere duro cioè bisogna veramente non fermarsi per questo vi dicevo all'inizio io sono molto contenta che comunque ci siano questi momenti di confronto che servono a tenere sempre la spia insomma la lampadina accesa per me e per voi insomma che ci sia questo dialogo e questo stimolo reciproco rispetto al valore della produzione della nostra azienda considerate che questo è il dato del 2011 quindi noi abbiamo un bilancio di circa 7 milioni di euro l'anno come vi dicevo prima circa la metà ce lo devono ancora le pubbliche amministrazioni quindi insomma adesso sembra che qualcosa si stia sciogliendo con l'ultimo decreto che è stato fatto quindi notizie di tutti i giorni sui giornali che viviamo sulla pelle insomma poi la signora credo del museo civico insomma lo saprà bene con quanta difficoltà si lavora in questo periodo i nostri introiti ecco qui ho riepilogato graficamente questo schema proprio per darvi un'idea allora il 50% dei nostri introiti vengono appunto dalla gestione dei beni culturali cioè direttamente dagli appalti noi lavoriamo per appalti soprattutto ovvero partecipiamo ai bandi di gara pubblici per la gestione dei servizi di quel museo di quella mostra di quel bene quell'area archeologica quindi tecnicamente che cosa succede che l'ente pubblico il comune paga per un anno o cinque anni o quattro anni quant'è la durata dell'appalto la società per numero x di operatori moltiplicato per numero x di ore di apertura per offerta a base d'asta che ovviamente viene fatta dalle varie società che partecipano viene valutato prima una offerta tecnica cioè il progetto culturale il progetto insomma di gestione di quel bene viene valutato prima con un punteggio in ultimo viene valutata l'offerta economica nei bandi di gara come sapete non so se lo sapete comunque l'offerta economica viene valutata in ultimo alla fine proprio perché non influenzi la scelta sulla valutazione tecnica che invece è quella più interessante è la parte progettuale vera e propria cioè lo scrivere e il dire noi in questo museo vorremmo fare questo, questo questo e quest'altro in questo modo con queste risorse quindi come vedete il 50% del nostro introito viene dalla gestione proprio il resto l'altro 50% viene da un insieme da una serie di cose che si sommano e sono in realtà in parte altro tipo di gestioni teatri le biblioteche come vi dicevo in maniera molto marginale ma tutto il resto viene da quei settori di sviluppo così li vorrei chiamare di cui vi parlerò che appunto sommano l'altra metà del cielo diciamo nel senso vanno insieme sommandosi a comporre l'altra metà dei nostri introiti che sono appunto la realizzazione e la vendita di audioguide le attività didattiche di visite guidate la gestione dei bookshop gli introiti da biglietteria in alcuni appalti l'introito della biglietteria è dell'ente pubblico cioè tanto quel museo in cassa come biglietteria tanto va nelle casse del comune di foggia di lecce eccetera in alcuni appalti quell'introito è dell'azienda in questo caso c'è un rischio di impresa cioè viene riconosciuto meno da un punto di vista economico il monteore di apertura per il personale che viene che va proprio a lavorare in quel museo mentre essendo dell'azienda l'introito della biglietteria l'azienda può in quel caso con il rischio di impresa appunto operare per promuovere meglio cioè ovviamente più ci metti più fai più incassi più iniziative insomma più come dire attività di promozione fai e più hai la possibilità di incassare sono controversi questi ambiti perché molto spesso si dà invece all'azienda all'introito della biglietteria ma nello stesso tempo si limita molto l'azienda su quello che può fare quindi magari non può cambiare le tariffe non può fare una serie di promozioni oltre quell'ambito oltre quel limito quindi insomma se mi dai il rischio di impresa mi devi poter dare anche la possibilità di muovermi come voglio insomma o comunque concordandolo insieme queste ecco sono le due tipologie più frequenti sugli incassi della biglietteria come siamo organizzati da un punto di vista strutturale anche questo forse vi può interessare come spunto allora noi abbiamo la nostra struttura interna noi siamo una società cooperativa innanzitutto questo insomma lo abbiamo già detto quindi abbiamo un consiglio di amministrazione che è composto da cinque consiglieri un amministratore delegato abbiamo ovviamente una base assembleare di 160 190 soci a seconda dei periodi e internamente ci siamo dati una struttura attraverso un organigramma aziendale un po' come le imprese appunto private che è composto abbiamo fatto questa scelta che è composto da vari livelli un CDA un consiglio di amministrazione appunto come vi dicevo composto da cinque consiglieri all'atere il collegio dei sindaci il revisore legale che per motivi di legge come dire ci sono figure che devono esserci per forza di cose e per quanto ci riguarda sono esterni sono figure esterne abbiamo scelto un revisore legale appunto insomma e un collegio dei sindaci esterni alla nostra azienda l'amministratore delegato che nel nostro caso è anche il presidente di sistema museo che ha al suo fianco un RSPP un responsabile della sicurezza e prevenzione e protezione su questo per esempio noi abbiamo investito il responsabile della sicurezza vi dico solo brevemente è un nostro socio è interno non abbiamo siamo riusciti ad abbattere i costi di consulenza esterna formando internamente un socio di lunga data tra l'altro ormai ha raggiunto insomma le competenze ha acquisito i requisiti e quindi anche lì abbiamo tolto un pezzetto diciamo di costi di uscite abbattendo una consulenza e quindi è interno direttamente subito immediatamente la parte centrale della parte organizzativa dell'azienda che sono gli uffici noi abbiamo anche qui un po' esternamente ma anche internamente un responsabile per il sistema integrato delle certificazioni questa è una parte molto tecnica però ultimamente le certificazioni sono molto importanti sia perché richieste dai bandi di gara in alcuni casi in alcuni casi obbligatori in alcuni casi con un punteggio ulteriore sia perché qualificano l'azienda rispetto ai processi della ISO che è la qualità della OSAS che è la sicurezza e della SA che è la etica e quindi noi ci stiamo abbiamo già la ISO abbiamo già la certificazione sulla qualità ma ci stiamo organizzando per ottenere anche quella sulla sicurezza e la etica poi abbiamo gli uffici l'ufficio del personale l'ufficio gare sviluppo l'ufficio amministrativo e la segreteria generale non sono solo uffici forse è sbagliato chiamarli così nel senso che operano anche tecnicamente per tutte le questioni diciamo burocratiche amministrative l'ufficio del personale ovviamente con tutta la questione la gestione dei contratti delle paghe della formazione interna del nostro personale l'ufficio gare sviluppo è quello che va a monitorare sempre e costantemente tutte le gare elabora i progetti decide a quale gare partecipare al suo interno uno staff che produce proprio scrive materialmente le gare collegandosi con i vari settori prepara il materiale amministrativo per le offerte e quindi la partecipazione finale l'ufficio amministrativo che è ovviamente quello diciamo il più tecnico tra tutti è una segreteria generale il cuore pulsante di tutte le attività sono poi la zona in azzurro non so se si vede sì quelli che sono le gestioni quindi per ogni gestione noi abbiamo dei direttori di area un responsabile di gestione e uno staff operativo quindi diciamo delle macro aree un responsabile di gestione per ogni singola gestione che è il referente tra il museo locale voi immaginate in 13 regioni con 160 gestioni e una sede centrale che è in Umbria e a Perugia abbiamo studiato questo modello per cui un referente di sistema museo il loco proprio lì nello specifico museo diventa il trade union tra quella gestione e l'azienda stessa diventa un po' l'avamposto non so come potete possiamo chiamarlo per darvi l'idea il referente ultimo che gestisce lo staff operativo che si avvale però ovviamente di una cooperativa dietro che lo sostiene e lo supporta in tutti gli ambiti e poi abbiamo appunto l'area commerciale quella in rosa di tutti i settori di cui vi parlerò a parte perché sono appunto i settori trasversali che operano in tutte le gestioni in contatto con tutti i responsabili e che sviluppano i temi legati alla comunicazione l'organizzazione delle mostre le librerie museali i servizi educativi la parte di audio guide il call center che non è un call center io faccio sempre questo nel senso che ve ne parlerò però è un call center ma fa anche un'attività di promozione diffusione capillare veramente molto molto utile e questo insomma ecco è un po' la struttura che ci siamo dati funziona non funziona ogni tanto la rimettiamo in discussione però insomma devo dire che non è molto gerarchica anche se così potrebbe sembrare a prima vista perché c'è uno scambio sempre molto molto efficace pur nel mantenimento dei ruoli perché ovviamente altrimenti poi si crea una confusione anche su chi fa che cosa invece è molto efficace avere appunto dietro dei settori specifici devo fare un bookshop in questo museo il comune mi ha detto se possiamo fare questo tipo di allestimento chiamo il direttore delle librerie museali lo chiamo qui a Foggia dove non so abbiamo vinto l'appalto rispetto ad un museo un'area archeologica un sopralluogo ormai siamo attrezzate anche ad avere dei requisiti interni ecco delle personalità interni stiamo abbattendo tutte le consulenze ecco questo vi volevo dire prima a velocità rispetto al responsabile della sicurezza perché sono dei costi ovviamente e poi perché non c'è miglior professionalità di quella che conosce bene l'azienda ovviamente deve poi fare insomma un aggiornamento tale per cui raggiunge i requisiti e le competenze per quell'ambito però è un modo di vedere le cose che stiamo mettendo in atto noi abbiamo due sedi operative l'ufficio principale è a Perugia proprio al centro di Perugia qualcuno di voi è stato mai a Perugia? sì ok quindi la sede è proprio in Corso Vannucci e all'Ater insomma di Corso Vannucci e un'altra sede operativa è a Terni abbiamo quindi due uffici in Umbria collocati così nella sede di Perugia c'è la segreteria l'ufficio amministrativo l'ufficio del personale l'ufficio gare nella sede di Terni c'è tutto il call center e il settore comunicazione i due uffici sono collegati hanno praticamente un'unica anche questo vi dico operativamente un'unica linea telefonica praticamente per cui telefonando agli uffici di Perugia in realtà risponde Terni che internamente abbiamo con la telecom abbiamo studiato un sistema di rete telefonica per cui è il nostro call center da Terni che trasmette le telefonate a Perugia quindi fisicamente siamo in due luoghi diversi ma veramente ormai siamo collegati grazie alla tecnologia in tempo reale sempre e poi abbiamo i settori settori di sviluppo che appunto sono le librerie la comunicazione il call center le audio guide le mostre i servizi educativi a parte la comunicazione il call center le audio guide i settori sono nella sede di Perugia comunicazione e call center sono nella sede di Terni le audio guide invece sono gestite da un nostro collega in una delle sedi delle marche a Pesaro di cui parleremo poi quindi questa è un po' la nostra struttura però ecco io vorrei parlare del cuore delle nostre attività che sono appunto le gestioni e se c'è qualcosa che non è chiaro se mi volete interrompere fate pure io mi prendo anche un orario per capire se è vero sì per quanto riguarda i suoi ucini sì il microfono ah no volevo sapere se per quanto riguarda il discorso dei soci cioè voi reclutate delle persone sui territori dislocati ovviamente nelle varie regioni cioè partecipate a delle gare di appalto ovviamente in funzione dei bandi quindi degli enti pubblici però poi penso che vi affidate del personale quasi sempre del posto con una forma di coordinamento ecco se magari mi chiarisci meglio questo aspetto grazie allora sono due percorsi differenti paralleli ma che poi si intersecano nel senso che un conto è il percorso di ingresso come socio nella nostra cooperativa che ovviamente è una scelta che il lavoratore insomma il collaboratore fa all'inizio diciamo matura un minimo di esperienza con una collaborazione o come dipendente insomma ci conosciamo reciprocamente non è immediato insomma lavori con noi allora diventi un nostro socio quindi insomma è una scelta che va maturata per entrambi sia per sistema museo che per la persona stessa noi noi ovviamente la proponiamo molto la caldeggiamo proprio perché c'è una maggior partecipazione non è soltanto una differenza formale e neanche di contratto perché poi il contratto è lo stesso i nostri contratti sono tutti legati al contratto nazionale del turismo questo ecco intanto ve lo dico che è un buon contratto sicuramente meglio di altri quindi tutti i nostri lavoratori sono inquadrati sotto questo contratto quindi dicevo il percorso di ingresso in società ovviamente viene maturato da entrambi quello che mi pone invece è molto importante rispetto al personale in loco nel senso che laddove noi andiamo a lavorare in zone dove già non è presente nostro personale che o già lavora per altri musei altri ambiti in quella zona oppure è presente residente in quel luogo perché per esempio è stato dismesso un appalto ci è capitato abbiamo del personale ancora legato a noi che non lavora più perché è chiusa un'attività insomma si è persa una gara di appalto lo riutilizziamo per altre gestioni quindi laddove non c'è già nostro personale le nostre gestioni soprattutto quelle fuori regione perché ovviamente in Umbria insomma siamo già molto radicati quindi il nostro personale non dico che siamo una realtà unica ma insomma poco ci manca quindi soprattutto nelle realtà fuori regione noi andiamo sempre nel 99% dei casi inati cioè facciamo un'associazione temporanea di impresa con cooperative locali o associazioni o comunque realtà che già conoscono il territorio per molti motivi e soprattutto per scelta perché il territorio appunto bisogna conoscerlo bene e quindi avvalersi della capacità di analisi e di appunto la conoscenza del territorio da parte di altre realtà è fondamentale non solo ma la parte operativa quindi la gestione vera e propria di un museo adesso facciamo l'esempio anche della Puglia dove noi appunto lavoriamo per esempio ad Otranto siamo in inati con l'associazione Orione il personale è di questa associazione cioè anche in quel caso noi abbiamo fatto unati noi abbiamo fatto tutta una parte di lavoro di formazione di quel personale organizzazione dei servizi in generale tutta la parte della comunicazione la parte dell'organizzazione delle mostre la parte operativa cioè fattivamente il lavoro di apertura chiusura dello spazio accoglienza eccetera le visite guidate le attività didattiche la fa il personale dell'associazione Orione da noi formato poi ovviamente dipende dall'appalto che cosa richiede ovviamente bisogna andare a vedere però lavoriamo sempre in tandem con cooperative e associazioni locali noi possiamo dare come raccontavo un po' anche ad Anna questa mattina anche proprio un supporto amministrativo burocratico la richiesta dei requisiti molto spesso viene richiesta un'esperienza un capitale dell'azienda eccetera l'ottenimento delle certificazioni quindi possiamo come insomma magari siamo cresciuti nel tempo dare il supporto da questo punto di vista formare il personale aggiornarlo seguirlo sempre costantemente in altri casi abbiamo laddove andiamo da soli ma sono pochi i casi facciamo delle selezioni in loco quindi si fa una selezione del personale che sia però sempre legato a quel territorio cioè che abbia delle competenze titoli di studi tutto quello che viene richiesto però che abbia una conoscenza di quel territorio che ci permette perché tanto è lì la qualità e la differenza anche rispetto alle gestioni quindi questo è il modo insomma di operare nelle gestioni dove già non c'è nostro personale allora sulle gestioni dicevo sono comunque il cuore di tutte le attività nelle gestioni museali e da lì partono tutta una serie di servizi appunto aggiuntivi perché nelle gestioni appunto che cosa avviene avviene come dire la messa in campo lo svilupparsi di tutti i servizi richiesti dalla stazione appaltante dai servizi di base fino a quelli aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti e qui bisognerebbe aprire una parentesi e una la apro molto volentieri su questo molto ci aiuta su questo molto posso andare avanti sentite c'è un intreccio di fili forse è questo allora dicevo sulle varie tipologie di servizi ci è molto utile vedere brevemente un documento molto interessante che sono gli standard per i musei italiani e io qui brevemente una parentesi l'aprirei perché ripeto insomma alcune cose buone dal punto di vista normativo in Italia ci sono e quindi bisogna conoscerle e sfruttarle gli standard che cosa sono? sono un lavoro diciamo il risultato finale di un percorso che è stato svolto da un gruppo di lavoro un gruppo di lavoro che è stato che si è composto dal 99 dai rappresentanti della conferenza delle regioni dal comitato italiano dell'ICO dell'ICOM dall'associazione nazionale musei locali prova sentite sì ok e questo percorso si è tradotto e approdato in un atto l'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei ed è del 2001 allora che cosa sono? è anche insomma non è proprio una lettura da comodino però è una lettura interessante e vi invito a farla perché mette i puntini sulle i e per la prima volta chiarisce alcune regole diciamo così è un insieme di criteri e regole infatti per definire i requisiti minimi necessari all'esistenza del museo e al suo funzionamento traduce praticamente in norme una cultura della gestione guardate che non era mai stato fatto prima d'ora cioè chiarire quali sono gli standard minimi affinché un museo esista nella sua gestione parliamo di gestione non di non di nascita non di quindi gli standard minimi per la cultura della gestione anche questo è molto innovativo perché non era stato mai messo per iscritto definire anche quindi quali sono le tipologie dei servizi qui che sono divisi tra servizi di base e servizi aggiuntivi e appunto insomma tra i risultati principali di questo documento considerate che sono stati definiti otto ambiti di riferimento lo status giuridico di un museo l'assetto finanziario le strutture il personale e per quanto ci riguarda la parte quarta quella relativa al personale è molto utile per capire chi deve essere il personale che lavora nei musei come deve lavorare il personale nei musei la sicurezza la gestione delle collezioni i rapporti con il pubblico i relativi servizi pensate viene messo addirittura come regola come norma e viene esplicitato attraverso un documento di questo genere il rapporto con il pubblico e i relativi servizi e i rapporti con il territorio torno a ribadire che consiglio la lettura perché è davvero molto utile quindi attraverso l'atto di indirizzo anche le regioni hanno avuto come dire cioè risentono hanno risentito per fortuna di quest'atto di indirizzo e quindi anche nelle normative regionali sono stati inseriti obiettivi di qualità e standard gestionali che tengono conto di questo atto è un atto di indirizzo ovviamente quindi insomma non è una legge che deve essere applicata per forza però è molto molto utile è un lavoro veramente necessario quindi rispetto a questo le nostre gestioni i servizi che noi eroghiamo nelle nostre gestioni sono servizi di vario genere che vanno dai servizi di base l'apertura e la chiusura delle sedi l'accoglienza l'assistenza al visitatore le informazioni la sorveglianza e la custodia ma anche la gestione delle prenotazioni delle biglietterie delle librerie museali la progettazione dei servizi di visita i servizi educativi le attività culturali e l'assistenza per conferenze e convegni non è detto che se ci sia un servizio c'è automaticamente anche l'altro anzi molto spesso vengono chiesti o solo i servizi di base o solo i servizi aggiuntivi oppure nei casi più fortunati entrambi per fortuna che è la cosa più auspicabile non tanto per la quantità dei servizi ma per la qualità nel senso che poi un'attività si interseca all'altra sempre i nostri operatori sono operatori museali e operatori didattici in alcuni casi sono sia operatori museali che operatori didattici nel nostro modo di organizzarci e di lavorare come vi dicevo all'inizio io sono un'operatrice museale adesso un po' di meno ma per un caso fortuito ma io la domenica sto al museo quindi insomma dopo aver lavorato una settimana in ufficio mi capita ancora abbastanza ripeto adesso per motivi insomma particolari un po' di meno però insomma io la domenica sto al contatto col visitatore e questo è un elemento che noi tendiamo a non perdere mai il contatto con l'utente perché è da lì che si scoprono e che si verificano il test finale è quello il contatto con l'utente cioè vedere come io in quel momento che sto facendo un servizio di accoglienza informazioni visita guidata sto facendo una didattica magari sto facendo anche proprio una sorveglianza ad una mostra all'ultimo minuto insomma c'è stata un'emergenza serve più personale e ci è capitato di insomma prendere e andare ci capita insomma questo è il nostro lavoro ecco mai perdere non perdiamo mai il contatto con l'utente perché da lì si verifica se il servizio si sta espletando bene se il gusto e l'esigenza cambia perché anche questo è molto importante è cambiato moltissimo il modo di visitare i musei o una mostra da parte del pubblico ne potremo parlare a lungo però il pubblico dei musei e su questo c'è una letteratura una bibliografia molto interessante non ultimo il libro di Soli ma sul pubblico dei musei e vari studi molto interessanti perché va dal visitatore occasionale al visitatore ben informato oggi la tecnologia ci aiuta moltissimo quindi molto spesso soprattutto per le mostre temporanee che sono il boom degli ultimi anni di solito il visitatore arriva che è ben informato e quindi è un visitatore molto spesso esigente quindi ripeto anche nella nostra organizzazione non perdiamo mai il contatto finale con l'utente è difficile veramente difficile che per esempio chi lavora nelle strutture degli uffici nei settori non stia ogni tanto comunque alle informazioni o comunque in una mostra in un museo per monitorare il servizio stesso come ci organizziamo allora partecipiamo ad una gara di appalto vi dicevo il comune su quella gara di appalto ci chiede per quattro anni nel migliore dei casi ultimamente gli appalti considerate che durano un anno e non sono niente un anno vola non fa in tempo ad entrare a impiantare il servizio che è già affinito ma non solo l'investimento stesso che la cooperativa fa cioè come fai a progettare per un anno è una fatica anche per gli enti pubblici non solo ma poi infatti anche per come dice giustamente la signora il comune stesso poi va avanti a suon di proroghe diciamocelo chiaramente perché non fa neanche in tempo entro 12 mesi di rifare un nuovo bando di gara e quindi poi si va avanti di tre mesi in tre mesi di proroga su proroga che è uno stilicidio perché non sai neanche e non sarebbero neanche esatto si riesce a farle attraverso vari cavilli diciamo però è assurdo quindi le gestioni veramente che purtroppo sono sempre più frequenti di frequenti in anno in anno sono un po' uno stilicidio dove non si riesce ad organizzare bene il lavoro a progettarlo a lungo termine ad ammortizzare alcuni costi e quindi degli investimenti nel migliore dei casi dicevo sono appalti di quattro anni a volte quattro più quattro addirittura quindi insomma proprio quasi un lusso ma che non vuol dire insomma che ci si adagia o ci si siede anzi però si ha un periodo lungo per lavorare per mettere in pratica delle idee dei progetti che in dodici mesi a volte vedono la nascita insomma la prima sperimentazione un test insomma su come possono andare su quella zona piuttosto che un'altra quindi dicevo qual è il piano organizzativo vinciamo una gara di appalto ipotizziamo che viene vinta a Foggia siamo a Foggia è un po' difficile magari lo facciamo appunto in associazione temporanea di impresa con un'associazione una cooperativa locale il comune richiede per quel museo tre operatori sempre tutto l'anno dal martedì alla domenica per quattro anni quindi accoglienza apertura delle sedi sorveglianza custodia servizi di visita guidata allestimento del bookshop servizi educativi quindi una progettazione dei percorsi didattici quindi vengono presi contatti con le scuole vengono proposti insomma tutta la gamma dei servizi nel migliore delle nella migliore delle ipotesi viene quindi organizzato un siccome appunto noi ci chiamiamo sistema museo non è un caso la complessità come scrivevo qui del sistema museo in termini numerici e tipologici delle strutture varia da zona a zona va organizzato un gruppo di lavoro per quella sede museale con un responsabile di gestione vedi organigramma che abbiamo visto poco fa che è il referente di sistema museo in quel territorio che mette in pratica innanzitutto una modalità di lavoro ormai ci siamo creati un modus operandi abbastanza specifico si avvale dell'aiuto di tutti i settori allestimento del bookshop chiamo il settore delle librerie museali c'è da fare un progetto didattico mi confronto con il direttore dei servizi educativi il comune chiede la produzione delle audioguide chiamo il direttore il responsabile delle audioguide e strutturiamo delle audioguide apposite ci può essere non è detto dipende dalla complessità della gestione un coordinatore dei servizi proprio che fisicamente lì nella sede museale gestisce tutti i servizi e poi ovviamente tutto lo staff operativo tra operatori museali operatori didattici o entrambi quindi in base alle richieste alle esigenze non vi posso fare un esempio unico ve ne posso fare insomma più di uno perché le esigenze e le richieste sono varie si organizza appunto un gruppo di lavoro ecco il piano di organizzazione considerate che molto spesso viene già specificato nel progetto tecnico nel progetto di gara cioè una volta che noi fatti i sopralluoghi su quel museo analizzate le richieste da parte della stazione appaltante lette letto il capitolato speciale di appalto che indica quali devono essere gli obiettivi e i progetti da portare a termine nel progetto di gestione di quell'area già esplicitiamo quello che sarà diciamo un organigramma di lavoro molto spesso ci vengono chiesti anche i curricula quindi se è una gestione fuori sede fuori regione andiamo già a contattare varie associazioni o cooperative insomma entriamo in contatto proponiamo un'unione delle forze e magari si presentano già i curricula delle persone che lavoreranno in quella sede questo è un po' tutto diciamo il processo la filiera con varie differenze perché veramente adesso la proposta diciamo degli enti pubblici anche loro io capisco bene la mancanza di finanziamenti genera come dire anche stimola una creatività anche sulla gestione che è un po' ai limiti diciamo della sopravvivenza però nel senso che veramente a volte ci propongono delle cose veramente insomma assurde non solo in termini di quantità ma anche di qualità sui servizi oppure appalti che chiudono e che nel rinnovarsi si avvalgono di professionalità legate al mondo del volontariato anche questo purtroppo e per fortuna io non ho nulla contro il mondo del volontariato ci mancherebbe però purtroppo è un terreno è un ambito che si avvale di persone magari anche molto qualificate ma anche e anche molto giovani e questo è un valore aggiunto ci mancherebbe però proprio perché il mondo del volontariato vi si accede liberamente spontaneamente a un turnover un cambio che non garantisce a lungo termine magari una presenza costante di alcune professionalità non solo è il volontariato non è retribuito ora i soldi non sono tutti però non sono tutto però insomma si dà un valore anche a quelle che sono le tue competenze il tuo requisito il tuo percorso di laurea il tuo percorso di studi non c'è niente di male nel dirlo e anzi diciamocelo insomma anche questo deve essere riconosciuto e non può essere riconosciuto che insomma sono qui e non dico a vita ma per anni lo faccio spontaneamente dopo un po' mi stanco andrò da un'altra parte quindi sul mondo del volontariato ci sarebbe da dire noi ci lavoriamo molto ve lo devo dire nel senso che molto spesso collaboriamo anche solo per dei percorsi urbani anche solo con la proloco l'ufficio turistico locale con l'associazione culturale noi ci lavoriamo molto per la redazione dei progetti per la messa in rete insomma di alcune attività sulla gestione a volte magari con il mondo del volontariato laddove ne possiamo ce ne avvaliamo magari è sui servizi di base rispetto a quelli aggiuntivi dipende insomma ci deve essere una gestione mista ecco questo secondo me ditemi voi se volete fare una piccola pausa perché io a questo punto avrei una carrellata sulle nostre gestioni più interessanti vogliamo fare una piccola pausa qui e vi racconto un po' le ho un po' scelte sia sulla base dei servizi richiesti sia perché alcune sono veramente interessanti e qui spero di come dire di vedervi cioè vi invito proprio a venire a vedere sul campo poi insomma come sono quindi non so se vogliamo fare una pausa caffè ok ok